Bentornati su MyFootballJersey. Oggi torniamo in NBA per vedere questa fantastica maglia dei Miami Eats, l'edizione Statement Edition in versione Swingman. La scuola della scuola della scuola della scuola. Maglia veramente molto bella, un bellissimo punto di rosso. Il costo lo vedete qui sopra? Beh, si commenta da solo, fate voi i vostri ragionamenti. Vi ricordo che per ordinare la maglia trovate tutti i dettagli qua sotto in descrizione. Andate a vedere quale splendide offerte vi attendono. Prima di lasciarvi la parte finale, mi raccomando, iscrivetevi al canale! A voi non costa nulla, ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media. A voi non costa nulla, ma ci permette di offrire la scuola della scuola.